Stiamo aspettando Pearson. Chissà che cosa frulla nella testa di quel maledetto pazzo. Se tu fossi qui, Paul, lo metteresti in riga. Spero che Ziusman e Aiello resistano fino quando colpiremo quei cannoni. Se posso permettermi, signore, forse dovremo raggiungere il punto d'incontro. Non ancora. Pearson arriverà. Signore, è la verità. Pearson ha lasciato morire degli uomini al passo di Kasserin. Un giorno, Daniels, quando avrai il tuo protone, scoprirai di avere due opzioni. Una brutta e una orrenda. Tu pensa ai tuoi uomini. Quello ti darà la forza. Deve dirlo a Pearson. Il sergente Pearson... Prego che a te non accada mai. Tenente! Trasmissione da Baker. Assalteranno il colle 493. Pearson è con loro. Cosa? Ha preso i nostri e il secondo protone. Preparatevi! Ci muoviamo! Avanti! Forza! Forza! Forse Pearson è ancora ai piedi del colle. Credo che sia già troppo tardi. Poverci, cazzo! Sembrano i nostri! Daniels! Stai bene? Tutto bene. Dove sono gli altri? Con Pearson ad attaccare l'artiglieria. Abbiamo chiesto rinforzi. Stardo figlio di puttana. Ritorneremo. Presto! Aiutiamoli! Giù! Porto d'artiglieria! Non c'è altro modo. Dobbiamo salire sul colle. State bassi e avanzate. La nostra squadra è più avanti! Preso! Via, via, via! Un nemico è ce l'ho scoperto! Un nemico in movimento! Batteria terrestre! Daniels, avanti! Davanti! Sulla testa! Fattici, avanti me! Scriviamo! Devo ricaricare! Avanzo da ovest! Procedere! Sempre avanti! Ricarico! Ritorni vinto! Più avanti! Mitragliatrici! Ore dodici! Fuoco! Daniels, distruggile una alla volta! Lato destro! I nostri sono bloccati! Riesco a muovermi! Non ti lascio qui! Versaglio ore dodici! Partemi via da qui! Appena vero! Dove c'è? Daniels, avanti! Dai! Aviamo qui! Preso! Abbiamo passi! Non ciò che uccidi! C'è? Mi costate! C'è? C'è? Uno! Ah! Salite! La nostra squadra è più avanti! Prendi delle munizioni, Daniels! Daniels, distruggile una alla volta! Stanno scendendo! Lato destro! I nostri sono bloccati! Aiuta! Uno dietro la batteria nemica! E la nostra militia devi aiutarmi! Lea! Non c'è! Ricordo! Stai in avanti! Via sulle mitragliere! Non c'è! Vieni! Non c'è! Non c'è! Mitragliere eliminato! Ancora due mitraglieri! Emizioni per te, soldato! Via, via, via! Signore, mi servono polizioni! Tieni, Daniels! Mi sparano! Facciamo attenzione! Non fermatevi! Non fermatevi! Le mitragliatrici ci vanno a pezzi! Un altro mitragliere! Fuoco! Sono a secco! Ricarico! Avanti, avanti! La nostra squadra è più avanti! Fatto! Eliminati! Avanzare! Aggiungiamo Pearson! E qua! Fila, vai nu! Daniels, avanti! Daniels, ce l'hai fatta! Che bello vederti! Pearson, che cazzo pensavi di fare? Eseguo gli ordini! Il nostro geniere deve spazzare via quel fortino! Non finisce qui! Daniels, scorta Parker e fagli piazzare una carica su quel bunker! Sì, sergente! Daniels, avvisami quando sei pronto! Tieni giù la testa e vai! Avanti! Via, via, via! Fuoco di copertura! Daniels, fai saltare quel fortino! A Parker serve copertura! Mitragliatrice neutralizzata! Posso avanzare? È la tua occasione! Mi muovo! Coprimi! Teniamo occupata quella mitragliatrice! Truppe nemiche! Fuoco di copertura! Mitragliatrice è andata! Posso avanzare? Via! Mi muovo! Coprimi! Occupati della mitragliatrice! Tedeschi in arrivo! Pianco sinistro! Teniamo occupata quella mitragliatrice! Truppe tedeschi! Colpite la mitragliatrice! Mitragliatrice neutralizzata! Via libera! Fuoco di copertura! Parker, vai! Parker, a terra! Daniels, prendi la carica e finisci il lavoro! Va bene, copritemi! Prendo la carica! Ci sono! Ti copriamo noi! Daniels, prendi la carica allungata! Ci provo! Datemi copertura! Carica piazzata! Indietro! Un car pulito! Andiamo! Quante sono le perdite? La missione è riuscita! Quanti? Avevamo l'ordine di prendere il colle! Dovevate aspettarci! Non c'era tempo! I nostri uomini... Gli ordini erano! Fancula, quel cazzo di ordini! Secondo te volevo questo? Siamo macchine da guerra, Joseph! Siamo fatti per prendere ordini e basta! L'hai dimenticato! Sono uomini! I nostri uomini! Te lo sei scordato? Quei 150 continuano a spararci! Muoviamoci! Distruggiamoli! Daniels, l'artiglieria è più avanti! Apri la porta! Nemici nelle trinche! Daniels, granate e fumogeni! Uso una granata! Sono a corto di munizioni! Vieni, soldato! Dammi tutto! Ecco a te! Nemici a terra! Daniels, metti una termite su quel cannone! Fuoco alle polvari! Yankees, schweine! Bunker, là davanti! Ci sono altri cannoni! Avanzare! Noi! Noi! Lancio una granata! Lancio una granata! Lancio granate! Noi! Ci siamo! Ultimi 150! I crocchi sono dappertutto! Provo con una granata! Da questa parte! Al volo! Doviamo controllare l'area prima di colpire i 150! Avanzare! Mizzioni per te! Ammazziamoli! Signore, mi servono altri colpi! Tieni, Daniels! Occupiamo l'area! Sì! Nemici di guardia al 150! Nemici a terra! Colpiamo gli ultimi cannoni! Daniels, non è finita! Distruggi i cannoni! Carica piazzata! Skyler! Dobbiamo distruggerlo! Costosa! Abbiamo ancora della termite! Basta! Deve bastare! Io e Pearson attiriamo il fuoco! Daniels, piazza una termite dietro il carro! Muoviti! Mettite in posizione! Il carro è ancora attivo! Rinforzi i nemici! Al riparo! Il carro è ancora attivo! Risposti i nemici! Al riparo! Il carro è ancora attivo! Risposti i nemici! Noi! Noi! Molto! Passi! Spera! Ma resso! Risposti i nemici! Grazie a tutti! 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 Signore, ho pensato di darle questa. Hai pensato male? Grazie a tutti! Vedi, questo è un nuovo mondo, Daniels. Il mio. Ora vedi di sparire.